eccoci qua buongiorno ragazzi allora oggi volevo farvi vedere un altro modifico che avevo fatto al portabici cioè gli ho dato rinforzo sotto facendo una staffa appunto con saldando una staffa a riferro e nulla gli ho dato rinforzo perché insomma mi faceva paura sulla parete posteriore dove appunto installato il portabici che si indebolisse un po troppo della parete insomma perché anche con le buche insomma gli dà il contraccolpo insomma e avevo un po di paura allora vi faccio vedere un po come ho fatto ecco questo è il portabici allora io ho messo delle staffe di acciaio su montante appunto del paraurti del camper montante di telaio una V e una V e cosa faccio ho fatto questa staffa fatta a U saldata ok quando appunto monti il portabici gli aggancio una di qua e una di qua così in questo modo tiro giù il portabici la luce di portabici mi si appoggia vedete sulla staffa gli ho messo una staffa L appunto sul telaio di portabici mi si appoggia su questo vi assicuro che è molto più rinforzato ci può ci può ci può ci può salire un maiale di sopra c'è il problema e mi legge in questo modo quando non c'ho le bici e lo levo appunto tiro su su questo questo lo sgancio di solito lo leggo le fa sceso con delle cinghie a stringere qui sul portabici basta e il lavoro è finito spero che il lavoro vi sia piaciuto è una piccola modifica insomma però insomma ti assicura un po' di più insomma viaggi un po' con più sicurezza almeno io mi sentivo un po' più sicuro con questo senza di che lo vedevo che si indeboliva insomma la parete insomma dava parecchio forza sulla parete insomma nulla spero vi sia piaciuto iscrivetevi al canale ragazzi alla prossima e grazie ancora a tutti